Lo Stadio Italia torna a portare fortuna al Sapri che davanti al ritrovato pubblico saprese si impone per 3-1 sugli ospiti dell'Interreggio. Un segnale positivo quello dei bianco-azzurri che al cospetto del pubblico di casa dimostrano grinta e determinazione, mettendo da parte la fase di obbligo delle ultime gare di campionato. Una vittoria inoltre che arriva al momento giusto perché permette agli uomini di Mister Pugliese di accorciare le distanze dalla capolista Milazzo, caduta sul campo della Rossanese. Domenica gloriosa invece per il Valdiano che si impone di misura sulla Tella Vulture e conquista la vetta della classifica del campionato di eccellenza lucana a quota 22, scalzando i cugini del Ricigliano fermati dal pareggio con il Vigiano e il Forti Smurgia che chiude a rete inviolate con il Real Tolve. 8 su 8 invece il motto che da ieri cantano le ragazze della Punto del Sala Consilina che nella trasferta ostia contro la Promomedia hanno vinto nettamente con il punteggio di 3-1, ottenendo così la ottava vittoria consecutiva. Il Sala Consilina mantiene dunque l'imbattibilità e rimane saldamente al secondo posto in classifica ad un solo punto di distanza dalla capolista romana Divino Amore. La cronaca dell'incontro vede le bianco-rosse predominare dal primo minuto di gioco sulle ragazze di coach Claudio Scafati, cosicché il numeroso pubblico presente sulle gradinate del palazzetto dello sport di Ostia ha potuto esaltarsi solo al terzo set, l'unico vinto dalle padrone di casa.